L'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, capofila regionale per il concorsone per medici di area critica, ha adottato le delibere per disciplinare l'esecuzione delle prove di selezione dei camici bianchi e quanto si afferma in una nota dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Il numero elevato di candidati è detto nella nota 433 domande presentate per 263 posti disponibili ha indotto l'azienda a spalmare le prove su più giorni avvalendosi di una clausola prevista nel bando. Le prove inizieranno il prossimo 8 novembre con 189 candidati per emergenza urgenza. Successivamente nei giorni 9, 13, 14, 15 e 16 novembre avranno luogo le prove per i candidati di anestesiologia, cardiologia, ortopedia, neurologia e neuroradiologia. Le commissioni saranno presiedute dai primari dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro integrate da un primario dell'ospedale Pugliese Ciaccio e da un primario dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Il concorsone regionale entra quindi nella sua fase attuativa con l'azienda capofile impegnata anche in tutte le attività organizzative connesse con le prove.